Siracusa raccolta rifiuti, tar bocce e l'affidamento temporaneo del Comune. Il Tar di Catania con la sentenza numero 1771 del 2019 depositata oggi ha giudicato illegittimo il criterio del prezzo più basso adottato dall'amministrazione comunale di Siracusa per la giudicazione della gara ponte del servizio di igiene urbana. Lo fa sapere l'ufficio stampo del Comune del Capologo del Tuseo. La gara ponte, sottolinea la nota, era stata esploatata perché nel mese di maggio 2018 il CGA aveva riformato la sentenza del Tar di Catania ritenendo illegittima l'offerta di GM rifiuti industriali SRL per aver reso una dichiarazione obiettivamente reticente, confermando l'esclusione delle altre concorrenti alla gara aperta indetta dal Comune. Lo stesso Tar, nell'odierna pronuncia, ha ammesso la complessità della vicenda procedimentale, compensando le spese legali dichiarate per tale motivo irripetibile. La scelta di effettuare una gara in tempi rapidi nel maggio 2018, continua la nota, era stata determinata dalla necessità di garantire economicità, cioè un costo minore, trasparenza e partecipazione. Si scelse di fare una gara piuttosto che individuare il gestore con ordinanza, così come è avvenuto nel passato per diversi anni. Rimane aperta per l'amministrazione una questione fondamentale posta ai giudici, ma che non ha trovato risposta. Considerato che il Tar in altri giudizi aveva condannato il Comune di Siracusa al risarcimento dei danni, ritenendo illegittimo l'affidamento tramite ordinanza, quale procedura? Si chiede, nella nota, se sarebbe dovuto porre in essere, per garantire con celerità la scelta del gestore, di un servizio che non può subire interruzioni. Il servizio concludo all'ufficio stampa del Comune di Siracusa sarà comunque proseguito senza soluzione di continuità dell'attuale gestore. L'amministrazione sta inoltre valutando se impegnare la sentenza per chiederne la riforma, come già avvenuto nel recente passato, per altre sentenze. Grazie.